Fino al 13 maggio il cinema napoletano sarà protagonista all'osanna della rassegna cinematografica Napoli e sui cineasti, curata dalla Cinematec Suisse in collaborazione con Cine Città Luce. Un omaggio al cinema napoletano degli ultimi vent'anni e ai suoi protagonisti, che si svolgerà per oltre un mese nella città svizzera. Un onore per la città di essere rappresentata in un organismo istituzionale così importante per la storia del cinema, per la cura della storia del cinema ed è anche importante in questo momento raccontare tutti questi venti anni della storia del cinema napoletano e farlo attraverso una selezione straordinaria di corti, documentari e film che rappresentano gli autori del nostro tempo. Inaugurata nel 1948, la Cineteca di Lausanne è tra le più antiche e importanti istituzioni del suo genere e con una delle più ricche collezioni del mondo conserva e promuove la diffusione del patrimonio cinematografico nella rete di sale associate del territorio elvetico. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dall'assessore alla cultura Antonella Di Nocera e dal sindaco De Magistris, col direttore della Cineteca Frederick Mer, il curatore della rassegna Maurizio Di Rienzo, i registi napoletani Leonardo Di Costanzo, Guido Lombardi, Carlo Luglio e il produttore Angelo Curti. Portare i capolavori del cinema napoletano in Svizzera, bella iniziativa, ringraziamo tutti i registi, in particolare Tony Servillo per tutti, ma iniziativa significativa che ancora di più rilancia la cultura della nostra città. In occasione di questa retrospettiva saranno proiettati oltre 30 documentari, lungometraggi e corti della recente filmografia partenopea, da Mario Martoni a Stefano Incerti, portando al pubblico elvetico la ricchezza e la diversità dell'arte partenopea. Il 60-70% di questi film non sono stati mai visti, credo che l'effetto, diciamo, Gomorra e Divo di Cannes ha aiutato poi a riscoprire il cinema napoletano, però non c'è l'idea che c'è un cinema, un fulcro di cinema originale, molto intenso, molto ricco, che viene da Napoli, questo non c'è. Quindi quello che noi vogliamo spiegare è che infatti c'è una specie di dinamicità a Napoli che non c'è altrove in Italia. Al festival saranno presenti l'attore Tony Servillo e il regista Antonio Capuano, entrambi protagonisti del cinema e del teatro napoletano.